oh qui è nevia ragazzi è venuta un po' di neve stanotte io ti voglio dire che schifo quello lì parla di Schignal che non rinnova e ride ormai hanno messo l'Inter da parte questi Schignal non rinnova perché prende per il culo quell'altro canale che diceva che Schignal rinnovava Zhang come Pellegrini un'offesa per tutti i tifosi dell'Inter paragonare Zhang a Pellegrini è un'offesa per tutti i tifosi dell'Inter è uno schifo questa gente che campa con i soldi di YouTube che ormai ha messo l'Inter da parte è veramente uno schifo ridono perché Schignal non rinnova vai a guardare il video perché almeno da contro a quell'altro canale che dice Schignal rinnova siamo arrivati a questo gente parla di Bertarelli di Lasri asta tipo Chelsea vorrebbero essere redibili questi cialtroni vorrebbero essere redibili perché si fanno le foto con qualche giocatore dell'Inter hai capito dove siamo arrivati ormai è uno schifo calciomercato fa un articolo calciomercato.com Zhang in Arabia anche per vendere ma quali sponsor quale socio di minoranza con una società con un miliardo di debiti impegno per il 99,6% a glass trust scaricati la visura camerale dell'Inter quali soci di minoranza siamo messi come la Sampdoria noi guardate quelli della Sampdoria della Sampdoria cosa ha dichiarato quelli dell'Inter stanno fermi perché secondo voi perché ai dei giocatori 35 anni e sessantesimo sono scoppiati Mkhitaryan Geko dov'è il mercato di gennaio Zhang dov'è il mercato di gennaio hai finito di fare le giratine con la coppa te ne devi andare lo so che non dipende più da te ma te ne devi andare dall'Inter ci devi lasciare perdere non è roba per te l'Inter ciao ragazzi a breve video altro video e poi live